Ciao a tutte, noi siamo Lechicche, negozio di abbigliamento donna curvi. Abbiamo un abbigliamento un po' particolare, morbido, sfizioso, colorato. Siamo a Senigallia, in via Cavour 36, per chi già ci conosce e per chi non ci conosce. Abbiamo un sito online che si chiama shop.lechicchesenigallia.it dove potete trovare tutte le misure, tutti i prezzi, i colori disponibili della merce che abbiamo in negozio. Man a mano la metteremo tutta, ancora non c'è tutta. Però ce n'è già un po', oggi abbiamo aggiunto altri capi e così faremo i prossimi giorni. Poi il nostro numero di Whatsapp è il 347 10 59 082. Lì potete chiedere informazioni su tutto quello che volete. Potete ordinare i capi e chiedere, chiedere quello che volete. Poi i nostri metodi di pagamento, perché noi spediamo in tutta Italia, quindi i nostri metodi di pagamento sono PostePay, SatisPay, bonifico bancario e carta di credito con link diretto. La spedizione è gratuita al di sotto di 100 euro, al di sopra di 100 euro e al di sotto a un costo di 7 euro. Salutiamo Valentina che è tornata fra di noi. Ciao a tutte. È ancora un po' scrocciolata ma... E Adriana che stasera è tutta sciccosa. Sono tutta sciccosa. Ciao a tutte. Ok, allora inizio a presentare il completo che ha Adriana. Il completo, insomma, sono tutti i pezzi che vanno insieme o separati, comunque si possono prendere in tutte e due le maniere. Sopra ha uno spolverino che però allaccia anche come abito, quindi può essere portato come spolverino, come camicia lunga e come abito. Quindi ha tre funzioni. Ha delle pieghe, un taglio basso in vita, con tutte delle pieghe. Sotto indossa la casacchina che poi dopo vedremo, della stessa fantasia. E un pantalone largo, un po' particolare, molto bello. Adesso mi giro dietro e facciamo questo. Sì, dietro c'ha questo taglio, taglio basso, spallone, collo arricciatino, anche davanti il collo è arricciato. Allora. Anche la borsa. Anche la borsa. E la borsa rossa, tocco di colore. Allora, partendo dalla camicia, lo trovate sul sito come abito camicia fantasia. Come abbiamo detto, fa anche da abito, ma anche spolverino. 86 euro, seno 130, fianchi fino a 180, lunghezza 106. Ed è tutto in viscosa, quello che vedete. La casacca sotto... Aspetta, mi tieni la borsa, grazie. Prego. Che tolgo. E vediamo la casacca, che anche questa è particolare, molto carina. Aspetta che poi la borsa ridammela, che va più figo. Allora. Tanto qualcosa ne ha fatto. La casacca, la trovate come casacca fantasia, 57 euro. C'è cartellini, un giro. 57 euro, seno fino a 140, fianchi fino a 160. Il modello è un po' particolare, fatto così, con questo motivo che può essere anche messo dentro e fa... Tipo tasca. Più un drappeggio, sì, anche tasca, volendo. Meglio non metterci niente, perché è buca. Può fare il drappeggio così, oppure può stare fuori come di là che fa la puntina. Allora, le misure, come sa che lo dite, seno a 140, fianchi a 160, 57 euro. Però, diciamo sempre che può essere indossato anche da Natalia 46, voglio dire, non è... Sì. Allora, il pantalone lo trovate come pantalone più corto dietro, perché ha il dettaglio che... Eccolo qua. Penso, sì, si vede? Si vede? Sì. Allora, veste di vita fino a 118, fianchi fino a 160. La lunghezza davanti è 101, dietro è 96. Bella lunga. Ha le taschine, qui ha delle pieghe, la taschina, con i bottoni, molto carino. E anche dietro ha le tasche. E volendo si può abbinare... Mi tiro, faccio vedere. Sì. Non so se si vede. Eccole. Ha le tasche con la pattina in raso, come la parte qui, la fascia qui, e questo dettaglio che si muove. Sì, e volendo si può abbinare alla camicia trasparente, non so se vuoi far vedere. Sì. La trovate sul sito come... Può essere abbinato a questa, perché questa ha dei dettagli dello stesso tessuto del pantalone. Richiama il pantalone. Sì, che l'abbiamo visto indossato la volta scorsa, comunque, con sopra il pantalone. Sì. Lo trovate sul sito come spolverino e camicia, 79 euro, seno ai fianchi 160, anche questo in viscosa, nero. La borsa... 89 euro. 89 euro, per chi l'ha chiesto, che ho visto che l'ha chiesto... È rossa e nera. Ok. E... Devo far vedere... Ecco, nero. Molto carina. È particolare. Ha la tracolla ed è particolare. Ce l'abbiamo avuta anche l'anno scorso. L'anno scorso, devo dire che c'erano più colori l'anno scorso che avevano fatto. Quest'anno, alcuni non li ho presi, adesso ho preso il rosso e nero per dare un po' di colore così. Ok. Ok, questa te la do, questa è la porta di là. Via. Ritira la sua. Ciao a tutte, grazie, sono tornata, sì. Sono tornata operativa. Per forza è dovuta tornare operativa. Non so, anche io. Sennò doveva stare ancora in convalescenza. Allora, il pantalone è tessuto fermo. Il pantalone, sì, è una viscosa. Sì. Quindi è un tessuto fermo. Però è scivolato, è abbastanza ampio, fianchi 160, abbiamo detto. Sì. Più che altro la vita è un po' più... La vita è ferma, 118. Eh, la vita non è tanto... C'è l'elastico, però più di tanto non c'è. Allora, avete... Allora, il costo delle borse, abbiamo detto... 89 euro. 89. 89, avete giocchine corte? Allora, giocchine corte, abbiamo quella che facciamo venire dopo in taftà, però un po' elegantina. Sennò c'è in felpa che l'ho messa qua prima, però ecco, non l'abbiamo abbinata perché non era previsto. Ecco, ci sono le giocchine così di felpa semplici, con gli automatici. Comunque, le giocchine ne arriveranno. Abbiamo tante cose... C'è anche un jeans leggero. Eh, sì. Ci sono in felpa. Felpa quale? Ah, le giocchine... Sì, le magliette queste qua. Ecco. Non so se intendeva proprio la giacca giacca, oppure le giacchine in felpa così. Queste ci sono in vari colori. Dopo dipende se uno intende giacca giacca, oppure ecco... Sì, dopo anche in jeans ce ne sono diverse che si abbinano anche i pantaloni. Dopo le giacche che si abbinano i pantaloni, una la indossa dopo lei. Comunque sul sito ho un po' di giacche, le potete vedere. Ce ne è in categoria proprio... C'è spolverini e giacche. Ce ne sono diverse e poi domani ne carico altre in jeans. Adesso stasera ancora non avevo le misure, domani ne carico. E intanto vado con l'appeso. Ci siamo. Ah, giacchina tipo Chanel o Boleri? Chanel, abbiamo quella verde lime. Adesso vediamo... Ti presenti il completo di Adriana e io vado a prendere la giacchina, quella Chanel. Eccola. Valla. Colore. Allora, il pantalone è quello che c'era, avendo stato anche prima, 79 euro. Sotto ha la canotta di pizzo, la canotta di pizzo che viene 39 euro, una taglia unica e veste di sene e fianchi fino a 145 circa. È disponibile in tanti colori. È disponibile bianca, nera, verde militare e fucsia. E fucsia? Ah sì? Sabbia anche. Verde acide finita? Di cosa sto parlando? La canotta. Ah, no, 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 la canotta sì, c'è anche verde acido. C'è verde militare, blu, verde acido, sabbia, nero, fucsia celeste. Sul sito le potete vedere tutte. Poi, la maglia è sul sito sempre maglia in filo, quadrotti, 35 euro, seno 130, fianchi 140. Disponibile in fucsia, che è quello che indossa Adriana, sabbia, bianco, verde militare e nero. Allora, questa è la giacchina Chanel che abbiamo. E' in verde lime e color burro. E domani sarà disponibile sul sito, devo prendere le misure. Ho già caricato la foto, ma devo completare. Allora, faccio vedere queste qua. Questa è una camicia in cotone, una casacchina un po' particolare con la manichina. Si, si vede qua? Si, se vuoi avvicina la anche tanto il manichino. C'ha la frappa nella manica, è tutta frapposa, bellina, tanto simpatica. Così. Bollo e scacco. Allora, casacca bolli con frappe, 79 euro, circonferenza 200. Si, è grande. Lunghezza 74 davanti, 82 dietro. Ho preso solo la circonferenza perché è talmente grande che non... E va bene, la indosso anche io come, diciamo, come... 100% cotone. Il pantalone invece è il pantalone, quello in cotone, quasi tipo jeans, un po' più leggero del jeans, elasticizzato. Pantalone gaucho in cotone sul sito, 35 euro. Disponibile in bianco e sabbia. Vita fino a 120, fianchi fino a 140. Poi abbiamo questa maglia, questa l'abbiamo, io l'ho voluta abbinare a una sottoveste perché mi sembra molto particolare la maglia e la vedevo bella sopra un abito lungo così. Sotto abbiamo l'abito senza maniche, smanicato, sottoveste e sopra questa maglia con la taschina, la stampa... No, c'ha due taschine, quindi qua e di là, e la stampa. La maglia è disponibile sia bianca che nera. Sì, allora, la maglia si chiama maglia svasata con stampa, 76 euro, circonferenza 200, lunghezza davanti 70, dietro 90. Anche questa, anche questa 100% cotone e questo è il bianco. Poi, dello stesso genere, c'è la scatoletta con la stampa. Sì, che avevamo fatto vedere la volta scorsa. Ok, 76 euro, circonferenza 160. Anche questa ha la manichina, è molto carina, c'ha la manichina, la volevo far vedere da vicino. Ha la frappina e sotto, perché forse non si vede da lontano, ha tutte frappine. La balza con tutte frappine. Poi, per quanto riguarda la sottoveste, viola al momento non è disponibile. È disponibile in bianco, fango, blu, verde e celeste. Bluetta. Bluetta? Bluetta, sì. Ah, bluetta. 29 euro, seno fino a 130, fianchi 200. Lunghezza 135. Ok, vediamo Adriana che si è cambiata. Ecco, l'abbigliamento adesso è un po' più sportivo, insomma, che veste molto... Molto carino anche così, è però un po' meno elegante, diciamo, dell'altro. E intanto questa è fatta così. A bellina, sì. E questa è una maglia in filo, traforata. Davanti vedete che c'ha questo motivo più corto e più lungo. Sotto ci abbiamo messo una canotta con il collo ad anello. È una canotta smanicata, doppia in wall. Si può portare anche da sola perché è doppia e non traspare. E il pantalone sempre in tinta con le righe nere. Allora, la trovate sul sito come maglia in filo traforata. 45 euro, ampiezza 200. Lunghezza della parte più lunga 62. È ovvio che tanto va sempre con... Secondo me un po' più di 62 l'abbiamo figurata male. Almeno 70. Tanto arriva al 70. Perché io solito quelle canotte sono 70 centimetri. Ok. Le riprenderemo le misure. Colori disponibili? Tanti. Sabbia, verde militare, latte, jeans, blu, fucsia, verde ferragni, crema. E li trovate tutti sul sito. Allora, il pantalone lo troverete sul sito domani. Il prezzo non lo so. È arrivato nuovo, adesso l'abbiamo appena fotografato. Domani mettiamo il prezzo. Ed è disponibile così col fondo sabbia, col fondo bianco e col fondo verde. Sì, allora il verde è questo. Conosciuto come verde ferragni? Sì, sì, dicono. Noi ascoltiamo, gli altri dicono che noi ascoltiamo. Allora, il bianco invece è questo. Allora, Anna... Ecco il bianco. Ok. Allora, Anna, se vuoi ordinare qualcosa ci puoi scrivere su WhatsApp 347 10 59 08 2 indicando l'articolo e poi ti diamo tutte le indicazioni. La canottiera che misure ha, per favore? La canotta quella lì? Mi sa che... L'avevo misurata. L'avevo misurata. Non mi ricordo. Adesso prendo il centimetro. È bella grande. Sì, è grande, guarda. Vado? Sì, sì, sì. Io vado. Così dopo ti do la canotta. Aspetta. No, ma ce n'ho un'altra. Ah, ce n'ho un'altra. Sì, c'è diversi colori poi. Sì, sì. La canotta, adesso facciamo vedere i colori. Allora. Intanto la misura, la misura del seno arriva a 128, quasi 130, ma io dico 128 perché magari le tengo sempre quei due centimetri in meno. La canotta è questa, è doppia, tutta doppia, sia davanti che dietro. C'è fucsia, c'è duet, nera e color latte. Allora, adesso presento un attimo quello che indosso io, che è la maglia con i nodi, sempre da 45 euro. Sotto ho messo la, invece della canotta col pizzo, ho messo la maglia con la manica, perché ha la manica corta e quindi ho messo la maglia con i nodi, e il jeans, il jeans quello elasticizzato, da 39 euro. Allora, la maglia la trovate come maglia in filo con nodi, 45 euro. È asimmetrica. Seno 160, fianchi 180. La lunghezza abbiamo messo 66, ma tanto quelli in filo, mi sa che sono più lunghi di quello e quindi la parte è più corta, questa qua. Poi dopo c'è tutta la simmetria e la punta più lunga. Allora, disponibile in verde militare? No, verde militare non c'è più. Ok. C'è rimasta fucsia, verde gucci, diciamo gucci così, invece che ferrari. No, sono diversi. Sono diversi. Vabbè, verde, bianca, sabbia, nera e blu. Ok. A posto? Pantalone, veste fino alla taglia 60. Ok. È un cotone... L'anno scorso ce li abbiamo avuti ed era quello proprio estivo-estivo, quindi un po' più leggero di questo. Però questo è sostenuto, ma non troppo, nel senso è primaverile, non è un jeans normale, un jeans pesantezza normale. Allora, adesso presentiamo un'altra cosa, perché questa è un po' più... L'avevamo fatta vedere la settimana scorsa, in un'altra versione e in un altro colore. È il tap-ta. Ciao Renata, ci puoi scrivere su WhatsApp per la casacca, grazie. Allora... Lorella, concorre con te, diciamo, verde e gucci, molto meglio. Però sono tonalità diverse, in realtà. Sì, però, sai, per anni... Suona male. Allora, la volta scorsa avevamo presentato il colore bluet, mi sembra, e il rosso di questi articoli. Però la buona era diversa. Questa volta abbiamo la giacchina in viola, con il motivo che adesso faccio vedere da vicino, e la gonna, che ha lo stesso motivo in fondo, sempre in viola. Il motivo che ha è un intreccio. Il taftà è proprio intrecciato. Sia qui che nella gonna. La gonna questa ha la pulisse in vita, quindi si arriccia. E stamattina ci è arrivato anche l'abitino. L'abitino è un amore, proprio bellino, bellino. Ha lo scollo tipo barchetta, però un po'... Lo stesso motivo intrecciato ce l'ha nelle maniche, che è una manica a tre quarti, molto carina, e nel fondo. Nel fondo non è come nella gonna, la gonna ce l'ha solo nel pannello davanti, mentre l'abitino ce l'ha da tutte le parti, tutto intorno. Tutto intorno. Ed è molto molto carina. Allora, la go, la casacchina, facciamo la giacchina col bottone ricoperto, e poi, volendo, c'è anche questa giacca qua, quest'altro modello con il fiocco. Allora, la prima giacca, quindi quella con i bottoni, la trovate come giacca taftà bottoni, 79 euro, seno 120. Abbiamo messo fino a 120. Davanti un po' più... È un tessuto fermo, quindi meglio fermarci qualche centimetro prima. Fianchi fino a... 120 di sicuro, di più non lo facciamo. Fianchi fino a 180, disponibile anche in color oro e corallo. Il viola ancora non trovate online, lo troverete online. Comunque, se vedete qualcosa che non trovate sul sito, ce lo chiedete su WhatsApp, magari... Sì, perché noi stiamo cercando di inserire tutto, ma qualche giorno... Poi, questa giacca qua è la giacca taftà con fiocco? Sì, perché ha due asole, si chiude con due asole, e c'è questo fiocco che passa dentro, c'è queste due asole, e il fiocco questo, passa dentro alle asole, si può togliere e rimane una giacca aperta senza niente. Questa qui, a differenza dell'altra, anche se misura 120 di seno, però ha tutta questa vestibilità qui davanti, quindi se uno ha un seno un po' più importante, sicuramente veste anche più di 120 come seno. Allora, sì, seno 120, fianchi 150, 68 euro. L'unica cosa, non so se sappiamo il prezzo dell'abito, che è arrivato stamattina. No. Infatti non ce l'abbiamo il prezzo dell'abito. Beh, aperta sì, certo, calza di più aperta. E' un tessuto fermo, noi le misuriamo chiuse, quindi qui, noi quando abbiamo misurato tutto questo tessuto qui, tutto questo non l'abbiamo considerato, abbiamo considerato la larghezza del dietro, questa abbondanza qui non l'abbiamo considerata, quindi se uno ha un seno un po' più importante, ovviamente lo veste. Allora, Lorella dice, davvero avete delle chicche, ottima qualità e modelli ricercati, peccato per me che sono, avere purtroppo non entro nelle taglie, ma complimenti davvero per tutto ciò che proponete. Grazie tante. Ti ringraziamo, ma comunque ci puoi scrivere su WhatsApp, ci indichi le tue misure, e lo potete fare tutte, e vi indichiamo le cose, i modelli più arati, magari a volte ci sfuggono alcuni modelli. Sì, ma abbiamo tante cose, anche in taglie più grandi, che vestono fino a taglie belle abbondanti. Allora, Gloria, di cosa vuoi sapere la misura di sé nei fianchi? Per quanto riguarda, ecco, questo è l'abitino nell'altro colore, che si abbina alla giacca, che ha la giacca, sempre o questa, o questa, ma poi questo qui, adesso questa qui con i bottoncini così, ce l'abbiamo anche in nero, adesso magari io ne ho fatte vedere qualcuna, ma l'abbiamo anche in nero, adesso prendo anche l'altro colore, bisogna le mani piene, ecco gli altri colori, oro, rosso è quello che abbiamo visto con la gonna la volta scorsa, e la sua gonna è questa, visto che ci sono, caduta, caduta, è da stamattina che devo cambiare sta staccapanni, lo farò prima o poi. La giacca viola, Gloria, 120 di seno, 150 di fianchi, mentre l'altra è anche di più 180 di fianchi, mi sembra. Sì, però rimane fermo il seno, sì, il seno è 120 comunque. Insomma, quello che vedete qui, insieme alla giacca, quella con la pulisse qui davanti, ce l'abbiamo anche negli altri colori, quindi il nero, il bluet, l'oro, il viola e il rosso. Ok. La modella? La modella è pronta, guarda. Stasera. Allora, qui abbiamo il pantalone a farfalla, che ogni volta che arriva, è un flash, finisce subito. Poi abbiamo messo una cannottierina a doppia balza, di quei tessuti scivolosi, quelle viscose scivolose, doppia, che non traspare, quindi anche questa in estate si può portare da sola, la volendo, e abbiamo messo un coprispalle, per chi non vuole mostrare le braccia, questi coprispalle sono proprio l'ideale. un po' così, tanto io non sono specchio, ma giusti quando sono... Questo è corto, sta corto, è un coprispalle. Ok, tu i prezzi non li stai, li dico io. Quindi, 24, 24 euro il pantalone, che c'è in blu, sabbia, moro, e verde. 29 il coprispalle. E bianco. E bianco, anche vero, sì, l'ultima volta è arrivata anche bianco. Il coprispalle, che viene 29, e ce l'abbiamo, color jeans, color crema, e verde militare. E nero anche, un pezzo ce n'è rimasto. La canotta, invece, il prezzo non lo so. Questa è la sua memoria, questa è la canotta, e le vediamo. Ciao Sonia, allora, la felpa bianca di cui abbiamo chattato, penso di sì. Conviene che, dopo, ti ci incontrollo e ci sentiamo su WhatsApp. Allora, questa è la canotta, 39 lo stesso, no, lo stesso, 39 più o meno, come le altre canotte. E il pantalone, questo veste tanto, veste tutte le taglie. Sì, questo fino alla taglia 60, e anche oltre. Questo sì. L'anno scorso ce l'avevamo, sia in tinta unita, che a fantasia, e anche quest'anno arriverà in fantasia, e ci abbiamo vestito veramente tutte le taglie, ogni taglia. Ok. Posso andare? Sì. Io chiedo il permesso. Con permesso. Con permesso. Allora, facciamo un altro cambio. un po' sullo sportivo. Eccolo. Allora. Qui abbiamo un jeans, con la gamba asciutta, a sigaretta, è un regato, adesso lo porto vicino per far vedere il regato. Sopra abbiamo messo una maglietta un po' particolare, poi dopo togliamo il gel e la facciamo vedere. E sopra il gilet senza maniche, con cappuccio, di jeans. Carino. Dietro è fatto un po' a ruota. Adesso lo porto vicino, faccio vedere la riga del pantalone. Si vede bene? Vale la riga così? Sì, sì. Cioè, sia in questo colore, che con la riga sul verde, sui toni del verde. Allora, il gilet, lo trovate come gilet jeans, 42 euro, seno fino a 140, fianchi 160. Per quanto riguarda la maglia, sarà online domani, disponibile anche in sappia e verde. Eh, sì, il prezzo l'ho visto prima. Aspetta, è venuto, mi l'ho messo. 24 euro la maglia. Adesso la faccio vedere. È carina. C'ha questo motivo ripreso, ed è un po' più corto al centro, non è proprio al centro, è un po' asimmetrica, più lunga ai lati, e anche dietro comunque più lunga. Ok. Ok, sì, Sonia, ci sentiamo dopo su WhatsApp. Buonasera, Anna. Allora, questo lo rivestiamo. Velocemente. E questo qua è... Sì, Sonia, te l'ho apparto. Questo qua è il pantalone che ho indosso io, il jeans, che anche questo veramente veste un po' tutte le taglie, fino alla taglia 60. Sotto abbiamo messo la nostra camicia da 35 euro in cotone elasticizzato. non so se ce l'ho libera da far vedere la camicia. ma non so se ce l'ho. Mi sa che qua non ce l'ho. Buonasera, sono nuova, le misure del pantalone e farfalla. Allora, non abbiamo le misure in centimetri precisi, ma veste veramente tutte le taglie. Se le vuoi sapere con precisione ci puoi scrivere o su Facebook o su WhatsApp 347 10 59 08 2 e ti indichiamo le misure precise, ma l'anno scorso le abbiamo avuti e le hai tossate veramente tutte. e le è piaciuto molto. Allora, la camicia che è sotto lì, sotto la... al gilet, non ce l'ho in bianco da far vedere, ve la faccio vedere in nero, perché c'è anche in nero. È più lunga, più corta davanti, in nero forse si vede poco, però. È più corta davanti, più lunga dietro. Ha questo piegone, veste delle belle taglie. Sì, hanno 140, fianchi 150. Cotone morbido, elasticizzato, 35 euro, bianca e nera. Allora, copri spalle verde che colori ci sono? Cioè, allora che li prendo? In questi colori qua. Crema, jeans, nero e il verde che aveva indosso Adriana. Pantaloni e sigaretta tinta unita ci sono? Sì. E prendo i colori. Dovrebbe essere il modello rigato sul manichino, però tinta unita? Se non sbaglio. Vediamo. Ciao Daniela. Nel frattempo vi ricordo il sito shop.lechicchesenigalia.it molte cose le trovate e molte ne arriveranno tra domani e dopo domani e anche le prossime settimane. Ci sono sempre nuovi arrivi e vi ricordo la diretta che la facciamo il martedì e il giovedì. allora ho preso i colori dei pantaloni adesso il blu poi il verde lime il colore sabbia sabbia questo non c'entra niente tanto l'occhi di ferma e manca il nero che deve essere è stato provato prima comunque c'è il nero e ho preso questo perché volevo far vedere siccome abbiamo fatto vedere prima questo qui le righine questo è l'altro colore si vede è un verde col sabbia ma devi mettere a fuoco sì ecco ok ecco questi sono i pantaloni a sigaretta 30 a memoria è difficile 39 euro e invece quello a righe mi sembra sui 42 domani anche questo ah non l'hai messo non l'hai detto il prezzo no perché non l'abbiamo no ma l'avevamo scritto il prezzo 44 le taglie ci sono diverse taglie conviene che poi ci sentiamo su whatsapp come sempre partono dalla L fino alla 5XL i pantaloni a sigaretta quindi ne stiamo tutti allora giubbino le jeans ne avete ci sono diverse giacche di jeans adesso uno la indossa a triaggio giubbino no giacche giubbino eh sono giacche adesso giubbino orazzi pure che arriverà nei pacchi che abbiamo da aprire magari c'è pure ok adesso no volevo dire qualcosa c'è online di jeans sì c'è una giacca quella fantasia domani caricherò due o tre tre nuove giacche sì con la gessata e con le due normali più c'è il gilet che vedi lì e più c'è c'è lo spolverino lo spolverino esatto adesso una la vediamo indossata c'è l'andriana addosso allora abbiamo la mantella che è tornata in tutti i colori che avevamo all'inizio quindi blu nero rosa e bluett allora un secondo maria grazia il pantalone farfalla non lo trovo ancora sul sito perché non è stato ancora caricato domani lo carichiamo se vi interessa qualcosa e non lo trovate sul sito potete scriverci e vi facciamo sapere tutto tutte le informazioni perché noi cerchiamo di farvi vedere appena arriva la roba di farvela vedere però ci vuole un attimo dopo per metterla sul sito ma potete anche chiedercela come dice Valentina quindi ok questa è la mantella l'antipioggia diciamo quella che si metterà adesso appena arriva la temperatura un po' più gradevole questo è un completo Adriana sta un po' largo è una taglia grande questa è la 3 però parte dalla 1 quindi c'è la 1 la 2 la 3 che noi la 1 e la 2 non ce l'abbiamo più abbiamo la 3 ma credo che torneranno allora la mantella innanzitutto 69 euro disponibile blu che avete visto color jeans rosa e nero poi per quanto riguarda la giacca e queste io sa che ancora non le ho misurate quindi no le misure no però sono vabbè domani le mettiamo sicuramente allora questo è il nero questa è rosa e questo è il jeans color jeans domani per quanto riguarda le giacche metteremo tutte le misure giacche e completi perché questi sono anche completi il prezzo invece ce l'abbiamo sì sì ce l'ho lo faccio i prezzi sì sì i cartellini allora la giacca questa viene 89 euro e il pantalone dove ci vai il cartellino non ce lo so ah aspetta che ce l'ho qui davanti se non è quello è questo sì sì 59 ok 59 il pantalone e 89 la giacca la giacca adesso ha un bottone solo un solo bottone è svasatina ha le tasche con la patta ok no e beh si ha e la camicia invece questo è un altro modello arrivato adesso sì quindi non avete visto camicia con punte domani sarà online eh disponibile in bianco e anche in celeste se c'è sì mi sembra di sì dovrebbe esserci il cartellino sì 42 euro ok è sempre cotone elasticizzato poi allora chiedono il pantalone fa fare i colori blu verde militare bianco moro e sabbia l'avevo lasciato fuori per farli vedere eccoli poi allora i colori sono questi oltre al verde c'è questo color sabbia crema non so come si possa chiamare un crema blu moro scuro marrone scuro bianco e il verde che è indossato poi ripeto questi arriveranno sicuramente in nero sicuramente e anche le fantasie ok sono a posto sì allora un po' più corta di questa l'avete? la giacca di jeans e allora adesso ti faccio vedere i modelli che abbiamo per il momento una è questa ed è più cortina di quella però c'è anche la manichina più corta ed è gessata e volendo ha il pantalone abbinato gessato volendo c'è anche il pantalone questa viene 116 quest'altra no è più lunga la faccio vedere lo stesso però è più lunga e il giubbino di jeans sicuramente arriverà a qualcosa adesso siamo all'inizio sì sì questa è un'altra giacca sempre volendo col pantalone completo e poi c'è questa giacchina qui a fantasia molto carina un jeans a fantasia così che c'ha anche il pantalone il pantalone così molto carino però queste sono cose che abbiamo già fatto vedere quel pantalone no? allora io adesso c'ho un altro colore da far vedere sposto questo poi andiamo a vedere allora la giacca simmetrica quanto costa? la giacca simmetrica non ci vedo 116 come l'altro? ah due automatici qui davanti è più lunga si vede è più lunga da un lato ha le taschine a filetto è tagliata molto è bella molto bella dietro ha questo particolare dello spacco che da una parte più lungo dall'altra più corto e chiede se può indossarla si può indossare e sì la facciamo indossare ah si è messa l'abito beh ma la può indossare anche sopra l'abito non è un problema per le misure domani le mettiamo sul sito oppure ce le puoi chiedere e te le mandiamo su whatsapp stasera l'alternativa era o che non facevamo la diretta o che la facevamo così senza le misure si infatti adesso anche l'abito lo facciamo vedere che non è eh non è ok no ma è giusto Sonia allora eccola qua però abbiamo già adesso stavo preparando per l'ultimo outfit e quindi vabbè vabbè per vedere la lunghezza si vede lo stesso si si gira dietro around ok vado finisco di vestirmi allora io invece cambio l'ultimo le ultime cose da far vedere va bene Marzia eccolo qua l'abito in un'altra versione l'abito lungo quello da 29 color fango e gli abbiamo messo la maglia che abbiamo visto prima indossata da Adriana nel colore non mi ricordo sabbia lei l'aveva indossata si si traforata e adesso la facciamo vedere bianca con il fango sotto ma io infilo traforata sul sito 45 euro l'abitino sempre lui 29 euro abbiamo fatto vedere i colori di questo no no li ho detti solo ah no i colori eccoli qua c'è il bluetto il blu scuro il verde e il fango quello che vedete c'era anche il nero è terminato ma tornerà e questo è il completo che ce l'abbiamo avuto invernale è andato tantissimo è andato proprio bene il completo che era in lana allora adesso è in cotone pantalone con l'elastico gamba morbida e maglia scatoletta la differenza da quello che avevamo invernale che misurava 160 di larghezza la scatoletta questo misura 140 quindi un pochettino più piccolo lo faranno anche più grande probabilmente perché l'hanno fatto in inverno lo faranno anche in estate ma al momento c'è questa misura qua in quattro colori blu verde lime fango o sabbia non so e azzurro questo colore allora Sonia sì dovrebbe ok allora per quanto riguarda la sottoveste Sonia sì dovrebbe andarti bene adesso riguardo le misure i fianchi sono arriva a 200 il seno 130 ma di quale parli la sottoveste è la 29 mi mi io la chiamo mi perché sottoveste intanto ti segno poi dopo vediamo se ti va bene così è allora vediamo l'abito nella versione che volevamo farlo vedere ok allora questa è la sottoveste dipinta a mano di cui ci sono tre versioni questa è la versione color ruggine sì 129 euro con sopra la maglia basic 29 euro la maglia basic è disponibile anche in verde giallo nero e bianco e bianco per quanto riguarda l'abito questo qui volevo dire che siccome è in traverso stende molto quindi veste veste tanto perché è in traverso e quindi cede adesso non so che misure e sonia 134 lei più che altro è alta quindi non so se adriano ne vuole indossare uno così facciamo vedere sì un metro e 76 un metro e 76 quindi l'indossa lei e vedete più o meno l'altezza era quella allora adesso devo leggere i commenti il pantalone fiorito con giacca e in jeans pantalone fiorito ah sì allora le taglie di quello intanto se non puoi prendere il completo quello che hai fatto vedere in jeans fiorito sì così dico allora il pantalone c'è in due modelli sì vuole sapere le misure di questo allora seno 124 fianchi 140 della giacca 109 euro poi il pantalone quello che è lì allora quello con il fiocco allora la differenza del modello dei pantaloni è che questo ha la gamba molto larga sì allora 89 euro vita fino a 110 fianchi 130 perché è la M quell'altro invece eh questo ha la gamba questo è un gaucho ha la gamba larga e arriva alla caviglia allora 89 euro anche questo vita 106 fianchi 120 questa è una taglia L allora adesso leggo i commenti un attimo quanto costa l'abito vedi 29 euro l'abito sottovesti sul manichino che adesso indossa Adriana quello che indossava Adriano dipinto 129 allora la maglia traforata misura e prezzo eh seno 150 sì va bene per seno 150 ha un'ampiezza di 200 eh 45 euro disponibile in blu fucsia verde crema sabbia latte e poi semmai ti mandiamo le foto se vuoi ci puoi scrivere questi colori insieme comunque meravigliosi bianco e fango sempre molto belli questi abiti dipinti sì sono molto belli quanto è lungo l'abito sottoveste adesso lo sta indossando Adriana che lei è alta è lungo 135 lei è 1,76 ok si poi è in traverso quindi c'è in tutti i versi va bene poi leggo i commenti sì costo completo beige questo viene 49 a differenza di quello invernale che viene a 59 questo 49 ok Marzia chiede se è elasticizzato il giacchino non so di quali stai parlando però quelli in jeans sono tutti elasticizzati giusto tranne quella fantasia forse questa fantasia non è elasticizzata quella fantasia no gli altri si sì quegli altri si poi allora la casacca fango che è esposta ora quanto è lunga questa si prendo il centimetro dovrebbe essere 70 andato da attraverso la salida e qua il centimetro allora poi se c'è qualcosa da poter mettere sotto per allungarla sotto qui dello stesso colore non so se ci va bene la canotta quella sabbia allora è lunga è lunga 73 torno sì è lunga 73 e ci abbiamo o la canotta per pizzo così come avevamo messo nell'invernale sempre Adriana cerca le caramelle allora è andato di attraverso la salida eccola insomma vabbè adesso ho partito a metà no no parlavo trattiti Adriana ti ringraziano per aver indossato l'abito prego ecco insomma sarebbe questo l'effetto aiutami mettila di là ecco finila di là così ecco l'effetto sarebbe questo ok ok allora l'abito sottoveste è viscosa chiedono se si può vedere meglio la giacca di jeans a fantasia sì e non so se vuoi farla sto appunto indossare un attimo lì sopra giusto per aggiungere no sopra la maglia no la maglia esatto mi metto questa sì ok il completo 49 il completo 49 no quanto abbiamo detto sì 49 49 sì allora ok previsito semmai ci metto sotto una gonna di tulle per allungarlo va bene e sotto cosa c'è allora lì sotto cosa c'è io qui sotto ho messo una maglietta mezze maniche adesso la faccio vedere così una maglietta mezze maniche che uscivano le puntine perché è fatta così è un po' simmetrica anche questa ha questo taglio vivo e qua una punta più lunga qua è un po' più corta e dietro è più lunga è una mezza manica giro collo carina è un modellino carino certo qui sotto si vedono solo le punte però poi si può sfruttare anche in altre occasioni disponibili anche altri colori sì questa maglia qui quella sotto è disponibile io parlavo del completo ma anche la maglia il completo i colori li posso anche farvi dire allora Marzia la sottovesse non è raso se si parla di quella di manichino è viscosa se invece si parla di quella di pinta a mano è un simil tafta giusto? rasato sì questa è la gecchina eccola è più cortina questa sì c'ha questo c'ha la piega qui la piega sotto la tasca le due tasche con le pattine dietro c'ha questo motivo così un po' stondata manica tre quarti con il bottoncino e la si apre c'ha proprio l'apertura c'ha anche l'asola ok allora per caso le sottogonne di tulle no al momento celeste no anche quelle vediamo forse ce n'è una verde acido ma non c'entra niente dopo ce n'è altri colori le sottogonne di tulle probabilmente arriveranno non sappiamo fra quanto però arriveranno allora questi sono i colori del completo verde lime lime non è proprio un lime verde mela questo è sì faccio questo bluetto qui il blu scuro e il colore là ok quanto hai di seno Adriana? io? sai che non lo so dammi un po' il centimetro dai spendiamo le misure allora e poi lasciamo anche quello tanto allora Lorella l'abito sottovesse sono tutti smanicati quindi non c'è problema eccola senza manica dicono che se non lo vuoi dire non è un problema no adesso ci manca il centimetro tanto quello che ho c'ho eh ragazze non è che venerano età aspetta questa proprio guarda 115 115 di seno quindi vabbè la gianchina è un po' grande è un po' grande vabbè comunque anche la spalla è un po' scesa ci vorrebbe forse un 120 ci va no io no sto bene così non ti ingraziare no ok posso andiamo avanti salutiamo ricordo il sito ricordo che dirai il sito shop.lechicchesenigalia.it dove potete trovare tutte tutte le misure tutti i prezzi no vabbè di quello caricato trovate tutto sì vabbè dai che ci daremo da fare questi giorni domani ci saranno nuovi arrivi guardateci anche dopo domani anche per altri giorni guardateci sempre guardateci 4 scatole così da aprire ci sono arrivate oggi ci arriverà ci abbiamo un sacco di roba nuova e cerchiamo veramente ci mettiamo oggi siamo stati qui anche la pausa pranzo per poter sistemare per fare la diretta quindi ci mettiamo tutto tutto quello che possiamo di più non ce la facciamo e vabbè comunque sul sito trovate tutte le cose di solito c'è tutto con tutti i prezzi e tutte le misure adesso pian piano ce le metteremo abbiamo il nostro numero di whatsapp al 347 10 59 0 82 e lì potete se se vedete qualcosa qui e non è sul sito ci chiedete e noi rispondiamo sempre senza problemi ok va bene Maria poi ci contattiamo parliamo su whatsapp e si viene 49 spediamo in tutta Italia abbiamo i metodi di pagamento che sono poste pay satis pay bonifico bancario e carta di credito con link diretto la spedizione è gratuita sopra i 100 euro al di sotto ha un costo di 7 euro e basta saluto Valentina e la ringrazio per essere stata con noi grazie a voi grazie a voi grazie a tutti a voi che siete chi è a Senigallia in vacanza questa estate può venirci a trovare qua c'è il mare grazie a tutte voi che siete state con noi e fateci tanta pubblicità grazie a tutti buona serata grazie grazie a tutti